nell'ultimo video ho parlato di società di persone se non l'hai visto ti lascio il link oggi invece spiego cosa sono le società di capitali cioè diciamo che se sei al punto di aprire un srl un spa non penso tu abbia molto bisogno di me in questo momento questo video serve per spiegare un po cosa si può fare magari aiuta qualcuno a inventare l'idea del secolo e siamo tutti salvi allora le società di capitali nelle società di capitali troviamo società responsabilità limitata srl società unipersonale a responsabilità limitata società semplificata responsabilità limitata società per azioni spa e società in accomandita per azioni sapa le società di capitali hanno personalità giuridica sono per lo stato dei soggetti giuridici distinti dalle persone dei soci e quindi la società e non il singolo socio ad essere titolare dei diritti e degli obblighi che nascono dallo svolgimento dell'attività perché come ti spiegavo per le società di persone sss snc i soci o il socio sono i soggetti giuridici proprio per questo motivo io sconsiglio a chiunque di aprire una società di persona il rischio è troppo elevato lo strumento di individuazione della società di capitali è la denominazione sociale che è costituita da nome della società composto da un nome di fantasia o da un nome di uno più soci dall'indicazione del rapporto sociale quindi srl spa eccetera per esempio coca cola spa oppure rambo e rocky srl nelle società di capitali i beni conferiti alla società hanno maggiore importanza delle qualità personali dei soci cioè i capitali costituiscono infatti il mezzo principale con cui i soci contribuiscono all'attività sociale poi è più facile cedere le proprie quote sociali i creditori possono rivalersi esclusivamente sul patrimonio sociale questa è la responsabilità limitata l'amministrazione può spettare anche ai non soci la società ha responsabilità limitata la società responsabilità limitata srl si costituisce esclusivamente per atto pubblico al quale può essere allegato uno statuto che regola il funzionamento degli organi sociali entro 20 giorni dalla data di costituzione l'atto viene scritto a cura del notaio sia presso l'ufficio del registro delle imprese sia all'agenzia delle entrate l'atto costitutivo deve contenere obbligatoriamente la denominazione sociale le generalità dei soci e le quote di conferimento la montare del capitale sottoscritto e versato l'oggetto quindi lo scopo della società ed eventualmente la sua durata l'indicazione della sede della società le norme di ripartizione degli utili l'indicazione degli amministratori dei loro poteri l'indicazione del sindaco unico televisore contabile se esistono e poi l'importo globale delle spese per la costituzione poste a carico della società il capitale sociale non può essere inferiore a 10.000 euro deve essere conferito in denaro e direttamente nelle mani degli amministratori della società non più in banca perché un tempo si lasciavano in banca fermare stando la necessità della sottoscrizione integrale del capitale sociale una recente legge ha introdotto la possibilità di determinare un capitale inferiore a 10.000 euro purché è pari ad almeno un euro siano quindi due casi capitale sociale non inferiore a 10.000 euro i soci depositano il 25 per cento del capitale cioè 2.500 euro come minimo e nelle mani degli amministratori della società con l'impegno a coprire in ogni momento la somma rimanente il secondo caso invece è quello del capitale sociale tra un euro e 9.999 euro i conferimenti obbligatoriamente in denaro devono essere versati per intero nelle mani degli amministratori inoltre una somma pare a un quinto degli degli utili netti si vedrà dal bilancio per annuare deve essere destinata a riserva legale finché il patrimonio netto non abbia raggiunto i 10.000 euro il capitale sociale diviso in quote per i soci che hanno il potere in proporzione al numero di quote il loro possesso la srl risponde dei propri debiti esclusivamente con il proprio patrimonio escludendo quindi le proprietà personali dei soci ha come organo deliberante l'assemblea dei soci ha come organo amministrativo secondo la scelta dei soci o un amministratore unico o un consiglio di amministrazione che può delegare la maggior parte dei propri poteri ad un consigliere può disporre di un organo di controllo quindi sindaco unico o eventualmente se previsto dallo statuto un collegio sindacale che verifica la correttezza dell'amministrazione e poi infine deve avere un revisore contabile che esercita il cosiddetto controllo montabile la srl è un tipo di società in cui l'elemento personale è abbastanza importante ma contemporaneamente si ha il vantaggio della responsabilità limitata perché copre quindi la fascia di imprese con dimensioni medie è superiore all'snc ed inferiore all'spa infatti ha di norma un capitale minimo obbligatorio di 10 mila euro contro i 50 mila euro dell'spa poi abbiamo la società unipersonale a responsabilità limitata da una normativa dell'unione europea è stata introdotta anche nel nostro sistema la possibilità che l'srl venga costituita con un unico socio con questa novità anche gli imprenditori individuali possono usufruire della limitazione di responsabilità in effetti è sempre stato possibile nel nostro ordinamento che una società di capitali si trovasse nel corso del tempo ad avere un solo socio ma in questo caso perdeva il beneficio della responsabilità limitata la nuova disciplina riconosce invece la possibilità che l'srl venga costituita fin dall'inizio con un unico con un unico socio fondatore e quindi eccezionalmente non con un contratto tra più persone ma con un'enunciazione unilaterale il socio unico beneficia della limitazione di responsabilità purché non sia una persona giuridica o socio unico di altre società di capitale abbia effettuato conferimenti dal proprio patrimonio al patrimonio sociale nei modi nei termini stabiliti dalla legge abbia fatto constatare nei modi dovuti la unipersonalità dell'srl al registro delle imprese della camera di commercio la società semplificata responsabilità limitata nel 2012 è stato introdotto un nuovo modello societario la società semplificata responsabilità limitata poi nell'anno successivo ha subito alcune importanti modifiche allora all'inizio l'srl semplificata poteva essere costituita solo da persone fisiche di età inferiore ai 35 anni per fortuna questo limite è stato poi eliminato oggi va bene qualsiasi età la costituzione deve avvenire con un atto pubblico quindi con l'intervento del notaio ma con l'esenzione dell'onorario notarile quindi costa un po meno il capitale sociale minimo deve essere di almeno un euro e deve essere inferiore a 10.000 euro sottoscritto ed interamente versato in denaro all'organo amministrativo o all'atto della costituzione i vantaggi di questo nuovo tipo di società sono sostanzialmente una riduzione dei costi iniziali e uno snellimento delle procedure per la costituzione della società e le sue varie azioni trattandosi di forma giuridica nuova per conoscere nel dettaglio diciamo le caratteristiche del contratto societario è consigliabile rivolgersi o alla camera di commercio al proprio commercialista le società per azioni è improbabile che chi si mette in proprio voglia aprire subito una società per azioni un spa questa forma sociale adatta esclusivamente per le grandi aziende ti do giusto due informazioni puoi parlare i settori più interessati a costituire spa sono il credito la finanza la grande industria la grande distribuzione eccetera in un spa o in una sapa il capitale sociale può essere diviso in un numero predeterminato di quote che abbiano valore uguale se ad esempio una spa a un capitale di 300.000 euro può dividirlo in quote da un euro ciascuna ogni quota viene rappresentato da un documento chiamato azione che può essere liberamente acquistato venduto sul mercato mi auguro e spero che tutte queste informazioni ti siano state utili in qualche modo e se hai bisogno di sapere altro scrivimi nei commenti